Dopo anni siamo riusciti a superare la coda, il purgatorio è finito, possiamo ritornare al paradiso. Probabilmente vi sarete chiedendo, oh ma perché Dario con un incredibile taglio di capelli sei tanto felice da fare ricorrenze cristiane? Ebbene, io e dei miei amici siamo andati alla fiera del fumetto e c'era giusto un tantino di gente. Però alla fine siamo arrivati, o almeno dopo ore. E quindi adesso dovrebbe venire quella scena che vi ho fatto vedere all'inizio. Dopo anni siamo riusciti a superare la coda, il purgatorio è finito, possiamo ritornare al paradiso. Ma i miei amici hanno fatto un cosplay, io no. Questa è senza dubbio Eleven. E questa... Questa... Ovviamente della Coca-Cola. Ovviamente lì era tutto pulito e niente di rotto. C'erano molti cerchi. Molta musica di qualità e tanta tanta gente. Prima siamo andati nel padiglione 19. E' stato molto divertente perché abbiamo visto gente camminare. E' stato molto istruttivo. E inoltre abbiamo visto molti computer. Sempre lì c'era un po' di gente che giocavano a Dungeon & Jack... Dungeon & Jack... Vabbè, questo gioco qui. Appena siamo usciti, ci fu una grande dimostrazione dell'intelligenza umana. E' stato intenso. Ma inoltre c'era un coniglio con i baffi. Sans. Degli alcolizzati. Una banana. Ma soprattutto... Il regno dei pop. Adoro i pop, come si può ben intuire. E inoltre mica sono solo questi. C'è la doppia fila dietro. E inoltre, mentre registravo alcune di queste scene... C'era anche qualcuno alla bancarella che mi guardava male. Ma proprio molto male. Tipo... Non avrò pace finché non morirai! Ma è ovvio che mi si è comprato qualcosa. Non avrò pace finché non sentto che ci fai sempre le camminTO. Una Keeping Grazie a tutti.